Ciao ragazzi, un saluto da Varsavia, siamo nel Mirico Uspeca, a piazza della Costituzione, qua a Varsavia, dietro di me, davanti a me Stefano Bari Varsavia, che è venuto da Bari Bia a Varsavia per mangiarsi queste ottime le corne, a me una trotta, il riso e le crevetti, i gambaretti polacchi. E' bellissima musica, e poi ragazzi, il menù è coloratissimo, perché guardatelo soltanto dalla parte sinistra, dove ci sono delle pietanze, perché la pasta destra non importa tanto, tanto il prezzo è basso qua in palone, il cambio è 1 a 4, è tutto colorato. C'è una bellissima musica, ragazzi, iscrivetevi al Master Pay, volate in Polonia, tutto questo vi aspetto, ciao!